Il sottotitore sarebbe da vicino le famose buste sicillate assolutamente E allora Eccoci, eccoci ragazzi Premio per il miglior annuncio pubblicitario Sezione l'importanza della consapevolezza di una sana alimentazione Un visual capace di richiamare l'attenzione del lettore Un headline che spinge da prima alla curiosità E porta successivamente a un'immediata comprensione del messaggio Una originalità nell'individuazione di un concetto capace di stimolare la riflessione Una eccellente esecuzione che consente la facile trasmissione del messaggio La giuria di Mangia Bene Cresci Meglio 2009 assegna il primo premio a L'imprunto di una sana alimentazione Che dire, bravi Eh, la professoressa è contentissima Buongiorno Complimenti E' vostra Il primo premio a consegnato la coppa Le telecamere salgono sul palco Per ritornare questo evento Io sono sicuro che telecamere e foto Non serviranno a ricordarvi un giorno così bello Perché sarà sempre con voi Presidente Allora, diciamo che l'imprunta digitale servirà per identificare non soltanto i nostri rappresentanti in Parlamento quando votano Ma anche i giusti alimenti per ottenere un'alimentazione sana Bravissimi L'idea è veramente bella Complimenti Bravi ragazzi Allora Contenti? Sì, tantissimo Ve lo aspettavate? No Allora? Contentissimo Mi raccomando Hai ripreso fiato? Sì, sì Bravi ragazzi Rimanete Rimanete qui sul palco Chiamo qui vicino a me Il professor Cannella La dottoressa Sefana Ricciardi Il sitaco di Viest Il sila nobile Venite Venite qui sul palco Al centro del palco Anche voi ragazzi Perché io voglio con voi Con questo sorriso Con le istituzioni che voi rappresentate Salutare Salutare Tutti i gruppi finalisti Di questa edizione Di Mangia Bene Cresci Meglio È stata una settimana Davvero Incredibile Mangia Bene Cresci Meglio Tornerà E vi dà appuntamento Anche All'anno prossimo Un grande applauso Grazie Mieste Grazie a tutti voi E la gioia Di questa classe Davvero Incredibile Venite Fatemi vedere Forza 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 Con una sorpresa Che sta per arrivare E conclude quindi Questa serata Grazie a tutti voi Grazie a tutti